Buongiorno FTI Online, avvio in calo questa mattina per la borsa con il Fuzzimib che lascia sul terreno l'1,9% circa, siamo a 17.300 punti, male anche il DAX che in questo momento perde il 2,45% a 9.580 punti, data l'entità dei ribassi forse è opportuno andare a controllare il quadro grafico di questi due indici per capire se ci sono i rischi di un ulteriore approfondimento della discesa. Iniziamo con il nostro Fuzzimib che abbiamo detto in questa mattina viaggia intorno ai 17.300 punti, in termini di ritracciamenti di Fibonacci rispetto al rialzo del minimo di febbraio siamo comunque ancora al di sopra del 61,8% che fornisce un buon supporto a 17.100, solo in caso di discesa al di sotto di quei livelli avremmo il rischio di una ulteriore fase calante destinata a ricoprire il gap rialzista del 15 febbraio con una base a 16.515 punti circa. È vero che in termini di media mobili siamo al di sotto dei riferimenti principali, la media 100 giorni addirittura a 19.500 punti, la 50 che si è rivelata importante nelle ultime sedute, comunque è stata tagliata a ribasso ieri e vale come resistenza a 17.850, il rischio quindi che indipendentemente da eventuali possibili rimbalzi di breve termine, il trend ribassista di medio termine, quello partito dal doppio massimo del 2015 sia ripreso è abbastanza elevato, se andiamo ad allargare l'orizzonte dell'analisi e a tenere in considerazione tutti i rialzi dai minimi del 2012, ci accorgiamo che la violenza della discesa è stata tale da riportare i prezzi addirittura al di sotto del 61,8% di rifacciamento e rialzo ai minimi del 2012, un supporto che in questo momento si posiziona sui 16.800 punti. È vero che dopo aver toccato quel sostegno a febbraio i prezzi erano rimbalzati, ma la reazione non è riuscita a riportare in attivo il trend crescente e quindi il rischio di un ritorno almeno su quei livelli, sui minimi di febbraio sembra essere a questo punto abbastanza elevato. Situazione deficitare anche per il DAX, questa mattina come abbiamo detto c'è un ribasso molto evidente, siamo scesi intorno ai 9.580 punti, notiamo che nel corso delle ultime sedute i prezzi avevano disegnato una figura a triplo massimo, andandosi a scottare a più riprese contrarie a 10.100, se prendiamo l'ampiezza della figura e la proiettiamo verso il basso dal punto di rottura, il metodo canonico per il calcolo dei target in questi casi, otteniamo un obiettivo per il ribasso intorno ai 9.370 punti, quindi 200 punti circa più un basso rispetto ai livelli attuali. Anche in questo caso in termini di media mobili notiamo che questa mattina c'è stato il test della media mobile a 50 giorni, in questo momento siamo leggermente a di sotto del supporto, conterà ovviamente quello che succede in chiusura risolta, quindi se in chiusura siamo di sotto di area 9.6, si potrà dire che la violazione della media a 50 è effettiva, con le implicazioni negative del caso. Precedentemente c'era già stato il taglio al ribasso della base del canale crescente che i prezzi avevano disegnato ai minimi di febbraio, il taglio al ribasso che era avvenuto come vediamo con un ampio gap ribassista il primo di aprile. Il fatto che il rimbalzo rispetto ai minimi di febbraio fosse limitato a ritracciare solo la metà della precedente discesa, quella partita dai massimi dello scorso dicembre, è un ulteriore indizio preoccupante che fa temere non solo movimenti verso i 9.350 punti che abbiamo indicato come target del triplo massimo, ma anche la probabile ricopertura del gap crescente che si è aperto il 15 febbraio con una base a 8.967 punti, fino a che rimarremo a di sotto i 9.800 punti, quindi grande prudenza e da un punto di vista di trading privilegiare operazioni short. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero. Grazie.